ragazzi ci ha trovato la partita che io non vedo niente a ecco adesso lo vedo poi dicano castiglia se ne vedono abbastanza come ce la giochiamo octo? un mosca e un marsiglia su c il resto a quindi napoli largo sotto stalingrad sotto a mosca un po più interno e anche il marsò su a mi direi in marsiglia quassù no scusa si marsiglia lassù e un mosca tipo qua anzi l'inizio qua probabilmente meglio su a si cerca di prendere il cap senza morire quindi un mosca qua che guarda verso quassù e lo stalingrad lo stalingrad io lo proverei a metterlo in questa posizione qua guardando verso sotto e napoli un po più largo qua ok ok chiaramente cannoni pronti su questa zona qua perché molto probabilmente loro marsò proverà ad entrare dentro a dritto per dritto forte tu non buttarti a pesce nel cap mantieni su questo bordo qua pronto a uscire in caso di problemi anche perché mi sembra da castiglia ah hai già contestato eh appunto a uscire in caso di problemi da e sarebbe caso perché me l'hanno fatto cosa faccio esco si se sei sottotiro esci se no stai la vediamo quanto gli dura si si esce 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 napoli tubiti vuole arrivare fin qua e sparare sul fianco di questo stalingrad è vero c'è di me merda so si riesce a vederlo o no no marzo non andare di punta di là torna indietro dove vai no il castiglio di laema c'è solo la napolis ho guardato la minimappa pensavo di essere dietro l'isola guarda probabilmente devo stare in grado del mosca adesso mi allargo e ma puoi anche arrivare quassù col mosca se sei non spot ok marsiglia sali un po di più stalingrad non allontanarti troppo eh ci servi un po più vicino pensavo di mettermi in kiting dall'altro verso old cerca di andare invisibile sono già a spot ok rimani tranquillo per un po spottato sei spottato lì? si si ah ecco il mazzetto non riusci ad attaccarti proprio tanto tanto all'isola? non andare unspotted no ormai c'è andato ok no sono morto ragazzi preso nove incendi non posso fare niente buonasera buonasera mosca e marsiglia dovete fare focus su quella napoli se è possibile incendio scendete la radio o la tv per piacere creola che parla al telefono continuo a pusharlo eh si vanno vanno non prendo le scampi quindi andiamo a fare attesa marsiglia prosegui 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 sto andando petro è entrato lascia stare for dove stai andando sono tre radar e li ho finiti cosa? sono fatti doppi i radar quindi non ce l'hanno per il momento sicuro? eh non me lo stanno facendo vabbè mi vado il terzo amato esce duro qui eh è un casino perché se c'è qua la napolis stai pushando troppo qua c'è la montana napolis for me che sarà qua stai pushando troppo rischi che ti apri io non posso fare un cazzo si si ma è chiaro eccolo la napolis guarda ok adesso posso fare io che so che la napolis è lì wow che legna io sono unspotted ok adesso infatti si sta muovendo per tirarmi a me la montana ciao ciao rovlet moscaresia termina mano su sta montana si cittadella cittadella volete una mano sulla montana anche lato mio no tu prosegui sulla napoli se puoi è ricevuto ok un incendio ferma va giù la montana ottimo ok un incendio ferma ok un incendio ferma sto prendendo il cap in teoria potrei non importa che spari basta che cazzo ho ricevuto ricevuto buono sono spottato quindi il marsopo lo metto qua eccolo cazzo io ho fatto un po' male al marsopo stalin si adesso lo prendo da dietro tu riesci ad andare a spotting no mi sta venendo addosso eh gli ho fatto un po' male pure io ma non è sufficiente stalin hai un colpo su quel marsopo un colpo ho scelto da passare dietro forse non mi passavo davanti eh si penso tra dieci secondi ce lo attiro c'è dopo il petro e vediamo riusciamo a fare focus sul petro ragazzi eh yes mi devo spostare faccio l'isola in mezzo il loro marsopo mi sta farmando da dietro all'isola e poi tra poco prende il cap però fai Marco a spararli si adesso sto ricaricando dai che è andato quasi giù bravo provo a venire indietro preghiamoci buttiamo giù portiamo il peso e incendiamo il target è il petro giusto? certo che è il petro incendiato provo a me vengo avanti Sanigrad entra dentro il cap di A si 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 vado a cappare mi ci vorrà un po' che mai non avrà niente dai marsiglia esci che tanto il castiglio è morto si sto uscendo non di broadside magari si infatti l'ho preso lui ha preso me ma chi se ne frega bene GG la prossima volta attaccati un po' di più all'isola perché secondo me lì hai preso un po' di danno extra eh si me lo sporto un po' perché mi hai detto di stare di puntare sul cap si si ma se vedi che sono 3-4 navi d'altra parte che ti sparano tutte quante prossima volta eh ma poi mi ha fottuto il marsiglia che mi il castiglia no? il castiglia che mi sparava da lui non mi potevo parare ma ha messo se incendi il mosca e trimmer si si nel senso appunto secondo me se stai molto attaccato all'isola anche se non riesci a sparare non riescono a spararti loro credo un castiglia di più esatto bella lì 102.000 sulla montagna dovrei farli un 3.000 in più di danno era perfetto 2 e 24 in totale non male no solo 90.000 non male